Il futuro è la sostenibilità, il rispetto dell'ambiente, tutto si muoverà attorno al concetto della sostenibilità e dell'ecosostenibilità. Nelle scienze economiche la sostenibilità è quella economica. Oggi parliamo di sostenibilità per antonomasia intendendo l'ambiente. Addirittura si parla di agricoltura con una funzione fondamentale, non solo quella della tutela del territorio, perché il contadino diventa il custode del territorio, quindi previene il dissesto, previene gli incendi, ritorna alla cura del territorio e del paesaggio, ma soprattutto le colture erbace e arbore diventano i sequestratori di CO2. Quindi questo grande problema dell'anidride carbonica che ci sta sellando ed è alla base del climate change, quindi del cambiamento climatico, oggi si potrà affrontare in un domani prossimo soprattutto con l'agricoltura, quindi con il ritorno all'agricoltura, alle foreste. Quindi qualunque cosa tu coltiverai o qualunque cosa metterai a dimora in termini di bosco o di cultura produttiva è qualcosa che blocca, fissa, sequestra, si dice, l'anidride carbonica. Questo ci pone come regione già avanti, vista la nostra superficie. Non solo, ma se un tempo l'Italia era il cosiddetto giardino d'Europa, il sud Italia, la Calabria in particolare, diventerà il giardino d'Italia. Tieni conto che la Calabria presenta il maggiore indice di biodiversità, cioè quindi di varietà esistenti e fa dell'Italia il principale elemento di biodiversità in Europa e questo già è importante. Il fatto stesso che possediamo migliaia di ettari abbandonati, non più coltivati, potrebbe diventare la nuova risorsa, quindi non solo ai fini agricoli puri di produzione, ma soprattutto ai fini ambientali. Agenda 2030, che è la parolina magica, la linea guida che ci guiderà fino al 2030, ci rientra in pieno e se coloro che dicevi tu prima i politici lo imparassero diventerebbe una cosa importante perché tutto si baserà su Agenda 2030. Questa sorta di transizione, il nuovo New Deal dell'Europa, il Green Deal europeo che è appena stato lanciato porterà tutto e porterà ingenti risorse, ma veramente ingenti, verso la sostenibilità di qualunque cosa, dall'agricoltura alla mobilità all'edilizia al sociale, addirittura alla cultura a ciò che stiamo facendo adesso e così via. Perché ci vuole questa transizione, si è capito ormai che i tempi sono andati rispetto al climate change. Noi però abbiamo una fortuna. Dici tu quale? Stare in Calabria e perché? E perché ti devo dire che... Essendo stati gli ultimi per tanto tempo possiamo diventare i primi, perché siamo indietro rispetto a tutte le tragedie che sono successe sul pianeta. Siamo indietro rispetto a tanti. E quando io vedo in tv le mappe rispetto ai tassi di inquinamento e di innalzamento della temperatura e vedo che la pianura padana, la Lombardia, il Veneto stesso, il Piemonte oggi si diceva è a livelli elevatissimi di inquinamento e da noi il tasso è basso, allora ci viene da pensare ma chi me lo fa fare a trasferirmi? Uno. Due. Il climate change è un problema per tutti. Seconda cosa, questo climate change, l'innalzamento delle temperature, non dimentichiamo che da noi può avere un risvolto. Cioè noi potremmo produrre e torniamo al mondo dell'agricoltura tutta una serie di prodotti agricoli che altrove non riescono a ottenere e che possiamo vendere al nord Italia e al nord Europa. Addirittura parliamo di prodotti subtropicali di grandissimo livello. L'avogado già si produce, il mango già si produce, io scherzando dico fra dieci anni produrremo anche l'ananas, ma noi stessi con questa per esempio la filiera del goji italiano che ormai partita dalla Calabria ma su sei regioni d'Italia e abbraccia tutta la nutraceutica del food ci siamo resi conto che è qualcosa che sta bene in Calabria al sud. Quindi sfruttiamo queste peculiarità pedoclimatiche. Io suggerirei di andare a studiare immediatamente. Fino a domenica, entro domenica andate a studiare. No, 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 a coloro che poi diventeranno la cosiddetta classe dirigente, di studiare, di iniziare a studiare quello che ti ho detto prima che è l'agenda 2030 che racchiude in 17 obiettivi e 169 sotto obiettivi tutta la programmazione comunitaria, quindi italiana, quindi regionale per il futuro. Basterebbe solamente dedicarsi e concentrarsi per tutte le misure e i dipartimenti, in questo caso regionali, rispetto a questa linea particolare per avere davvero il risultato o comunque avere la linea guida per muoversi. Vi ringrazio per essere stati qui. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Grazie. Grazie.